Ormai ce l'ho fatta Sì Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Addio, polizia. Tieni le mani furbolante, non ti muovere. Cazzo! Va bene, approfitto per migliorare il torneo in man della macchina. Un buon po' di nitro da... più chili. Va bene così. Ok, come vuoi. Basta invidia. Senti, forse è un pochino dura. Aha, ha sentito Rob? No, aspetta un attimo. Sentito? E come? Aspetta, ho solo detto che forse è così. Era ora, hai visto la luce. Dovete venire tutti al bunker, adesso. Non posso ora. Perché? Che c'è, man? Sono troppo impegnato a cercare di risolvere questa faccenda di Magnus Walker. I suoi tempi mi ossessionano. Ci perdi tu? Oh no, quello sbirro ha fatto inversione. Ci vediamo. A me? Mi hanno beccato. Io e il mio campione, ora ce ne andiamo al bunker. Grande! A più tardi. A dopo. Ok, alza quelle chiappe e vieni qui. Non c'è tempo da perdere. Sto arrivando. Sto arrivando. Black Beauty e Sans. Ciao. Ehi, io. Manu. Ti presento qualcuno, vieni. Ehi. Come va? Sono Bon. Ciao Bon. Ciao, sono Ken. Ciao Ken. Bel lavoro. Grazie. Quindi questi ragazzi ti hanno impressionato, eh? Oh, sì. Cavolo, è fantastico averti in città. Beh, grazie, ma... E adesso? Beh, c'è questo furgone di taco sulla sesta. Ne fanno certi gamberetti. Un posto fantastico. Io non credo che Ken sia qui per mangiare taco. Ma dai. Sì, cioè, vado pazzo per i taco, ma ho qui la mia squadra, abbiamo qualche auto. Chiaro. Preferirei divertirmi un po', più che mangiare taco. Ok, ok, ok. Ci stai? Non mi prendi in giro, vero? Sono un tipetto delicato, io. No, 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 su serio, su serio. Ci stai o no? Oh, amico, sì che ci stiamo. Certo. Allora, ecco il piano. Cerchiamo, pratichiamo, sgommiamo. Poi taco ai gamberetti. Adoro, adoro queste priorità. Sì. Sì. Suoniamo. Per i rock. Suoniamo. Sì. Ok, sei pronto per partire? Cerca solo di non perdermi, d'accordo? Io sì, sono pronto. Ehi, amico, è in giro a far saltare in aria Canyon, ma non ho ancora finito. Ti va a quella corsa di cui ti ho parlato? Sì. Sì. Troviamoci là. Sai dov'è? A dopo. Sì. Mi va. Prima fammi fare questa corsa con Magnus. Devo aprire il culo, li devo aprire. Cazzo. Magnus, che c'è? Sei rimasto indietro, eh? Cazzo. Cazzo, mi ha recuperato. Porca troia, porca troia. Ciao Magnus. Porca puttana. E' qui, è qui, è qui. Va bene, Manu. Te la lascerò studiare e poi i miei ragazzi si uniranno a te. Ok, bene, grazie amico. Ci becchiamo. Ehi, sentito. Te rapate testa a testa con la crudiglione, gara. Questa è la nostra occasione. Certo. E non la rovineremo. Eh no. Ci incontriamo la volta. Va bene. Non lasciarmi lì ad aspettare, capito? A dopo. Sto facendo la gara con Magnus, cazzo. E non voglio di certo che vinca lui. Siamo alla fine, siamo alla fine. Ciao Magnus. Hai perso, eh? Chi è quello sconvitto? Io e tu. Adesso dimmelo. Che c'è amico? Hai perso. Metti l'N2O, eh? Bello. Mi va quel cos'è io? Mi va. Perché? Perché? Ok, vediamo di iniziare, d'accordo? Da qui a là. Scopri tu il percorso. Ci vediamo al traguardo. Piaccia a tavoletta. Andiamo. Porca puttana però queste cose. Quella cazzo di macchina di merda. Non è giusto così. Ok. 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 C'è troia. oh fang, oh la vai Sì.